Normalmente per creare i miei personaggi prendo spunto da attori del presente, del passato, cose anche piccolissime che ho sentito, e in questa nuova produzione Candido, dovendo caratterizzare sette, otto personaggi differenti, ho accentuato ancora di più questa predisposizione a rubare da altri attori o anche non attori. Ecco alcune pillole da Candido. Io sono sempre del mio primo sentimento perché finalmente essendo io filosofo non mi conviene il disdirmi. Non sia mai, ti concedo la grazia, mi servono soldati, dichiaro guerra alla Francia. Noi non chiediamo a vostra maestra che alcuni bauli carichi di viveri, di ciotoli o del terrigio del paese. Grazie.